Che cosa è l'area web cliente? L'area web cliente costituisce un'occasione imperdibile per l'esercente che desidera potenziare al massimo la propria attività. Bluetooth 3.0 fornisce infatti la possibilità di usufruire di un dominio personale, che l'esercente potrà modificare secondo le proprie esigenze, offrendo così ai propri clienti un sito efficace e dalla grafica gradevole. L'area web cliente è accessibile sia tramite computer o tablet, attraverso il link pubblicizzato dall'esercente, sia da smartphone attraverso il QR code stampato sulla card del cliente. Nel primo caso, per visualizzare contenuti personali, sarà necessario per il cliente inserire il proprio numero di card e password che l'esercente ha registrato al momento dell'attivazione della card. Si ricorda che accedendo al sito da PC è tuttavia possibile richiedere una card virtuale, cliccando sul menu richiedi card e compiando il modulo sottostante. Si noti che l'esercente ha impostato una miniatura della card della propria attività, una testata personalizzata, un testo a lato e il catalogo premi come menu di default. Anche i menu in alto sono personalizzabili. Cliccando su Home, il cliente verrà indirizzato al sito ufficiale del negozio come predisposto dall'esercente. Dagli altri menu, invece, il cliente potrà accedere alle informazioni personali, al saldo di punti a credito e allo storico delle transazioni, all'elenco dei premi ordinati, nonché all'elenco di tutti gli indirizzi dei punti vendita dell'esercizio in questione. Cliccando sull'icona evidenziata, sarà possibile scaricare un file formato PDF del volantino offerte specifico del negozio selezionato. Accedendo da smartphone, le operazioni effettuabili saranno similari. In seguito all'accesso tramite QR Code, il cliente potrà visualizzare il proprio saldo di punti a credito e lo storico delle transazioni, il catalogo premi da cui eventualmente ordinare un regalo, il riepilogo dei premi ordinati, i dati personali, nonché l'elenco di tutti i punti vendita del negozio con i relativi indirizzi. Cliccando sul tasto Barcode sarà possibile ottenere il codice a barre della card del cliente nel caso in cui egli l'abbia accidentalmente dimenticata a casa. Mentre cliccando sull'icona, come nell'esempio, sarà possibile scaricare il volantino formato PDF del negozio di appartenenza. Pluto 3.0, soluzioni per la fidelizzazione del cliente.